Alfresco Meglio Enterprise Content Management Disponibile sia per Windows che per Linux in due versioni Community ed Enterprise Nel nostro caso, inutile dirlo, utilizzeremo la versione Community Quindi quella open source scaricabile da tutti Basandoci sul server Ubuntu In particolare Alfresco viene introdotto nelle aziende Perché a differenza delle semplici condivisioni Samba E quindi la semplice gestione documentare Una specie, per così dire, di calderone Dove andiamo ad inserire tutta la documentazione Alfresco introduce alcune peculiarità Ad esempio la ricerca avanzata Quindi è possibile ricercare i documenti non solo per nome Ma anche per termini presenti all'interno del documento E questo sapete bene che avvantaggia molto il cliente Nella ricerca appunto dei documenti Oltre a questo gestisce la versionatura dei documenti Quindi è possibile aggiungere più versioni a un documento Senza la necessità di rinominarlo Magari con la data, l'ora dell'ultimo aggiornamento e quant'altro Allo stesso modo permette di introdurre il workflow O meglio il ciclo di vita del documento Possiamo fare riferimento a questa breve slide I documenti hanno appunto un ciclo di vita Vengono creati, revisionati, approvati e pubblicati E nel caso in cui la revisione non è corretta Si ritorna indietro Quindi il ciclo continua Sino alla pubblicazione del documento Ma ritornando ad Alfresco Queste peculiarità le vedremo magari nei video successivi Adesso bando alle ciance e mettiamoci subito al lavoro Iniziamo quindi subito l'installazione di Alfresco Abbiamo detto che nel nostro caso Utilizzeremo come sistema operativo server Ubuntu Per cui poiché virtualizzeremo il tutto Apriamo il nostro SXI E andiamo a creare una nuova macchina virtuale Nel nostro caso di test Alfresco Scusate Di tipo custom Con il nome ad esempio test Alfresco Legata al datastore 1 nel nostro caso Virtual machine versione 8 Come sistema operativo Ubuntu A 64 bit Come RAM 2 GB Scegliamo la scheda di rete E quindi andiamo a creare ad esempio Un disco di test Nel nostro caso di appena 20 GB Andiamo avanti Queste sono le impostazioni riassuntive E attendiamo la creazione della macchina Precedentemente abbiamo scaricato dal sito ufficiale di Ubuntu La versione 12.04 a 64 bit Che siamo già andati a caricare all'interno del datastore 1 E che quindi adesso andiamo ad impostare come CD Dal tastore 1 La ISO di Ubuntu La impostiamo come autopartenza Andiamo ad impostare l'avvio dal BIOS E non ci resta che aprire la console E avviare l'installazione Adesso andiamo ad impostare l'autopartenza da CD Posizioniamoci nella sezione boot Al primo posto impostiamo CD Salviamo E andiamo ad installare Ubuntu Scegliamo come lingua di installazione italiano Scegliamo installa Ubuntu server E iniziamo l'installazione Confermiamo la lingua selezionata Quindi Italia Andiamo a fare un rilevamento della tastiera Una configurazione della tastiera Digitiamo Y Doppia W Mentre questi caratteri successivi non sono supportati Quindi Pigiamo sul no No ancora Abbiamo terminato Continuiamo L'installazione Nel nostro caso abbiamo scelto come sistema operativo quello di Ubuntu Però potete scegliere anche CentOS Un'altra differente distribuzione Linux O ovviamente anche Windows Perché come ho detto precedentemente Al fresco può essere installato anche su Windows E' possibile scaricarlo anche per Macintosh Dopo lo vedremo quando andremo a scaricare il file bin Mediante il quale andremo proprio ad installare al fresco Nel frattempo l'installazione sta procedendo Ha configurato la rete con DHCP Infatti dopo andremo a impostare l'indirizzo come statico Come host Andiamo ad impostare ad esempio al fresco Come utente al fresco Nome count va bene al fresco Una password Possiamo mettere una password molto semplice e poi modificarla Abbiamo utilizzato una password non sicura Continuiamo Cifrare la propria directory personale Va bene No Confermiamo la timezone Continuiamo Utilizzando L'intero disco Selezioniamo il disco Scrivere modifiche sui dischi Ovviamente sì Adesso sta procedendo con l'installazione del sistema base Quindi l'installazione dei pacchetti utili Scrivere modifiche sui dischi Scrivere modifiche sui dischi Continua. Iniziamo gli aggiornamenti in maniera manuale e continuiamo. Installiamo solo il pacchetto OpenSSH che ci permetterà di collegarci in CLI e continuiamo l'installazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E attendiamo il termine dell'installazione del bootloader group. Le ultime operazioni. L'installazione è completata, quindi dice assicurarsi di rimuovere il supporto CD e cliccare su Continua. Per eccesso di zelo andiamo sulla macchina virtuale e eliminiamo la partenza all'avvio del CD e clicchiamo su Continua. Si sta riavviando e sta terminando l'installazione. I controlli di diritto all'avvio. Loghiamoci con l'utente Alfresco appena creato e non ci resta che andare a definire l'indirizzo IP fisso. In quanto nell'installazione di Alfresco ci verrà richiesto proprio l'indirizzo IP e poiché adesso è installato in DHCP potrebbe crearci problemi. Per cui innanzitutto andiamo ad impostare la password di root. Quindi sudo passvut. Perfetto. E adesso verifichiamo l'indirizzo IP che automaticamente ha acquisito ed è il lo 192.168.062 e colleghiamoci con il putt. Apriamo il putt. Colleghiamoci all'indirizzo 0.62. Questa volta con l'utente di root utilizzando la password appena inserita e posizioniamoci in etc network interfaces. Andiamo a modificare questo file e verifichiamo quindi che l'interfaccia eth0 è impostata su DHCP. Ins per inserire non DHCP ma static. L'indirizzo impostiamo lo stesso 192.168.062. Netmask 255.255.255.0. E gateway nel nostro caso coincide con il firewall 192.168.02. Quindi abbiamo definito l'interfaccia eth0 come statica all'indirizzo 192.168.062. Salviamo e andiamo a verificare il file etc.resolve.conf correttamente allo 0.2. Non ci resta che riavviare il tutto e verificare l'acquisizione dell'indirizzo IP statico e nonché la navigazione su internet del server stesso. Proviamo ad effettuare l'accesso sempre con l'utente di root e andiamo a verificare www.libero.it. Ci dà l'errore, andiamo a verificare il file resolve.conf e quindi aggiungiamo name server 192.168.02, ossia il nostro gateway. Adesso dovremmo non avere più problemi, infatti. Abbiamo quindi a disposizione un server Ubuntu con indirizzo IP fisso e con collegamento ad internet. Possiamo procedere con l'installazione di Alfresco. Terminata l'installazione di Ubuntu, procediamo con Alfresco. Quindi ricolleghiamoci con il putty all'indirizzo 192.168.062 come utente di root. A questo punto, prima di andare a scaricare il file di installazione di Alfresco e di installare lo stesso, dobbiamo installare LibreOffice. Quindi apt-get install LibreOffice. Adesso ci chiederà conferma e inizierà a scaricare e ad installare LibreOffice. Nel frattempo andiamo a reperire il link per il download dell'eseguibile di Alfresco. Quindi apriamo un qualsiasi browser, andiamo su Google e cerchiamo Alfresco Download. Andiamo sul sito di Alfresco, scarichiamo la versione Community, ad oggi la 4.2. e come possiamo vedere dalla fase 1, possiamo scaricare la versione per Windows, per Linux e per Macintosh. Quello che serve a noi ovviamente è Linux. Quindi clicchiamo tasto destro, compre indirizzo e teniamolo in memoria, poiché tra un po' terminata l'installazione di LibreOffice dovremo scaricarla. Quindi impiegherà ancora circa un minuto, come vediamo, per terminare il download dei pacchetti e poi procederà con l'installazione. Grazie. E' terminata l'installazione di LibreOffice. A questo punto posizioniamoci nella cartella TMP e andiamo a scaricare l'eseguibile. Anche qui ci vorrà un po' di tempo, ecco. Ci verranno circa 7 minuti e attendiamo il termine del download. Perfetto, il file è stato scaricato. Andiamo a creare la cartella nella quale sarà salvato al fresco. MKDIR OPT ALFRESCO Assicuriamoci che questa cartella sia vuota, altrimenti non viene accettata durante l'installazione. Non ci resta che associare i corretti permessi all'eseguibile ed avviare l'installazione. Scegliamo ovviamente come lingua italiano quindi 4 Tipo di installazione avanzato 2 E qui andiamo a selezionare i componenti che vogliamo installare Java, sì, Postgre, sì, SharePoint, sì, WebQuickstart, sì, integrazione con Google Docs, sì, LibreOffice, sì, se è tutto corretto digitiamo sì. Ecco qui, andiamo a inserire la cartella di destinazione appena creata Quindi OPT ALFRESCO E qui una serie di invio per impostare le porte di default Il dominio, inseriamo l'indirizzo IP del server stesso Quindi 192.168.0.62 Porta server Tomcat predefinita Porta di arresto Tomcat predefinita Porta FTP predefinita Password Inseriamo inizialmente magari una password semplice che successivamente andremo a modificare Porta SharePoint ALFRESCO predefinita Decidiamo di installare ALFRESCO come servizio Di modo che ad ogni avvio del server ALFRESCO verrà avviato automaticamente Yes per continuare con l'installazione E adesso anche qui ci vorrà qualche minuto Attendiamo l'inizio dell'installazione L'installazione è terminata Decidiamo di non leggere il file Leggimi Avviamo ALFRESCO SHARE Quindi YES Attendiamo l'avvio dei diversi servizi I servizi si sono avviati correttamente Non ci resta che posizionarci all'indirizzo 192.168.0.62.80.80.80.share E verificarne il collegamento Come potete vedere l'accesso è avvenuto correttamente Non ci resta che inserire il nome utente admin e la password precedentemente definita Durante l'installazione Una volta effettuato l'accesso potete iniziare ad utilizzare ALFRESCO Attendiamo l'accesso Nel frattempo io inizio a salutarvi Spero che questo tutorial possa essere stato utile E come avete visto nell'arco di un'oretta circa siamo riusciti a mettere su un server Ubuntu con ALFRESCO E potete iniziare ad utilizzarlo Seguendo magari i nostri video successivi dove vi spiegheremo maggiormente i dettagli di ALFRESCO Ciao a tutti Ciao a tutti